Un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre ma avere occhi nuovi. Lo diceva Marcel Proust e questo è sempre stato l'approccio che abbiamo avuto nel vivere le più disparate situazioni teatrali. Con rispetto e curiosità, senza pregiudizi né preconcetti, l'occhio di retroscena ha visto e vissuto tutte le esperienze provenienti dalle realtà teatrali di ogni latitudine e cultura. Ci tengo oggi a ribadire questa libertà di pensiero e questa onestà di intelletto prima di proporvi i reportage in cui raccontiamo gli incontri che abbiamo avuto in questi mesi con forme di teatro caratterizzate da una forte valenza sociale e che ci portano dall'Oriente all'Occidente, dall'Europa all'Africa. Ricorrendo a un nostro refrain, a un principio al quale cerchiamo di essere sempre fedeli e di cui siamo orgogliosi, ci siamo fatti stranieri. E' davvero stranieri, lo siamo stati in occasione di uno spettacolo che ha fatto molto parlare di sé quando è stato presentato per la prima volta in Italia a Festival di Polverigi e poi riproposto dalle vie dei festival, la rassegna che raccoglie tutte le novità straniere giunte durante l'estate del nostro paese. Noi l'abbiamo visto, abbiamo partecipato con emozione a questa che più che una rappresentazione è stato un evento, un happening, Made in Paradise, così si intitola questa miss in scena, che vuole portare alla luce e rendere consapevoli gli spettatori occidentali di quelle che sono le paure e i fantasmi che il mondo musulmano ha generato. Si affronta in questo spettacolo il rapporto fra Oriente e Occidente, spesso deformato dalla lente dei media e visto attraverso la rappresentazione che ciascuno dei due mondi sviluppa in rapporto all'altro. Protagonisti Jan Duivendak e Omar Gayat, un attore svizzero e un egiziano che si sono incontrati più di un anno fa, prima al Cairo, poi in Svizzera. Lo spettacolo che ne è nato falleva sull'umorismo per disinnescare la paura, figlia dell'ignoranza, e scommettere sull'intelligenza. Il pubblico è parte attiva nello spettacolo e viene chiamato più volte a intervenire sui temi della messa in scena, ad esempio sulla propria conoscenza del mondo islamico, per dare vita ogni sera ad uno spettacolo diverso e irripetibile. Noi ne abbiamo preso parte, ci siamo tolti le scarpe, come vedrete, per entrare in questa dimensione islamica, e ora vi proponiamo un primo filmato su Made in Paradise, che vi farà subito capire quali emozioni ed esperienze abbiamo vissuto. Noi ne abbiamo preso parte, ci siamo tolti le scarpe. La fenêtre non ha fatto una visione su altri modi, e questo è il momento in cui l'Occiden ha incontrato l'Oriente. Buon Natura! 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 Made in Paradise, voi avete spiegato che nel titolo c'è ovviamente questa composizione Made in, consumismo occidentale, Paradise, l'idea appunto che tutto è in funzione di Dio, ci potrebbe essere anche un'altra idea dietro questo titolo, ovvero il vostro incontro in un certo senso, non solo fra le vostre due culture, ma anche fra le vostre due personalità è avvenuto quasi secondo un disegno, un disegno divino. La sua interpretazione è giusta, io ho anche una mia interpretazione personale, secondo me Made in Paradise si riferisce ai tanti cliché, ai tanti stereotipi creati dai media che attirano la gente come se fosse un paradiso, le persone sono attratte da questi stereotipi come se fossero la verità assoluta, poi mi sono reso conto che il paradiso era il capirci tra me, Jan e Nicole, l'essere comprensivi da parte mia, da parte di Jan e da parte di Nicole. Era un martedì ed io ero a Barcellona, lavoravo lì con un collega, a proposto di accendere la televisione, c'erano queste immagini, prima mi ha pensato che fosse un film, quello che era ancora più strano è che quando cambiavamo canale, dappertutto c'era lo stesso film. In quel momento il secondo aereo batteva contro la seconda torre, nel momento dell'impatto ho sentito un'altra zagruta, nel momento dell'impatto ho sentito i nostri vicini che dicevano Dio è grande, Dio è grande, in verità le due torri quando cadevano ho sentito che i nostri nemici cadevano con loro, in verità io ero contento, non ero soltanto io felice, tutta la gente intorno a me era felice. In verità io stavo scherzando con voi, in verità la mia storia vera, nella mia storia vera non ci sono né bandiere, né clacson e niente di tutto ciò. Quello che è successo è che due anni fa stavamo lavorando io, Jan e Nicole Borgia, la nostra drammaturga, a questo frammento. E io stavo scherzando con Nicole e Jan e le ho detto questa falsa storia. Jan e Nicole mi hanno detto se dici una storia falsa come questa a un pubblico europeo ti crederanno al 100%. Io le ho detto un milione per cento, nessuno mi crede. Ma comunque è un dato di fatto che dopo la sera dell'11 settembre milioni e milioni di persone hanno esultato e sono uscite dalle loro case gridando. Ma ha detto che è una bugia. Ma la sua è una bugia. Ma da quello che abbiamo letto, io non c'ero, ero a Roma, ma da quello che abbiamo letto nel mondo islamico in tanti hanno festeggiato. Non in tutto il mondo islamico. Non in tutto, ma certo che no. Omar volevo chiedere a proposito della sua storia, la sua storia falsa dell'11 settembre insomma, no? Con questo poi svelamento che c'è stato nel finale. Qual è secondo te la finalità, se vuoi morale o comunque drammaturgica che c'è in questo diciamo apparente gioco del raccontare qualcosa che in realtà non è mai esistito? Secondo me noi vogliamo solo una faccia delle cose. Non vediamo la vera realtà. Per vedere meglio dovremmo avvicinarci e guardare tutte le facce. C'è un'immagine dell'Oriente che arriva in Occidente che è distorta, ma la stessa cosa avviene anche in Oriente. Vorremmo proporvi un momento durante il quale ci dite tutto quello che sapete sull'Isa. Di tutti i luoghi comuni, i pregiudizi, i preconcetti che ci sono nei confronti ovviamente tra Occidente e Oriente, qual è stato quello secondo te più difficile da sradicare, da cancellare, da battere. Innanzitutto Ian, Nicole ed io ci siamo imposti di togliere questi preconcetti, questi pregiudizi dalla nostra testa per poter comunicare uno con l'altro a livello personale. Abbiamo capito la diversità dell'altro e l'abbiamo accettata per poter comunicare. È meglio secondo me fare in questo modo anziché dire siamo tutti uguali, non ci sono problemi. Le diversità esistono, dobbiamo solo accettarle. La risposta è in questi due libretti, uno è scritto da me l'altro da Omar. Giorno dopo giorno abbiamo scritto cosa ognuno sentiva del lavoro con l'altro. Un esempio, il cibo, le possibilità finanziarie di mangiare. Questi sono stati problemi che possono sembrare semplici, ma che in realtà si sono rivelati importanti. La domanda è cosa sappiamo noi qua stasera dell'Islam? Senza giudicare chiunque per quello che sappia o no, non c'è nient'altro più così, è un momento di scambio, non di confronto, di scambio. È molto difficile conoscere l'Islam, soprattutto da qui. È una grande storia a cui noi occidentali dobbiamo la permanenza e la conoscenza del mondo antico che sarebbe andato perduto nel nostro medioevo. So che ci sono vari Islam e quello che a noi piace è quello moderato. Questo dell'Islam moderato, per esempio, credo che sia un concetto non falso, nel senso che esiste un unico Islam. La moderazione è quasi un'invenzione comoda per distinguere i buoni musulmani da cattivi. Ho scelto di condividere con voi in questo frammento una delle cose molto care per me come musulmano, e cioè la preghiera. Quando stiamo per preghare dobbiamo soddisfare tre cose. La prima cosa è l'abluzione. E cioè lavandoci le mani, le facce e i piedi con l'acqua. Ma non soltanto per motivi di igiene. Quando mi lavo la faccia e i capelli, li lavo e li purifico di tutti i pensieri brutti che sono passati per la mia mente. Terza cosa che di solito preghiamo su un tappeto di preghiera come questo. La prima cosa, alzo le mani così e dico, Dio è grande. Quando faccio questo gesto, metto tutti i pensieri brutti e tutte le mie preoccupazioni dietro come la mia schiena per essere abbastanza concentrato con Dio.